Grazie Presidente, Presidente della Commissione, rappresentante del Consiglio. A me dispiace che questa mattina il dibattito inizi così come lo abbiamo lasciato ieri parlando ancora di Polonia. È una sorta di fissazione. Questa settimana, in questa sessione, si parla di Polonia ogni giorno, in tutti i modi, anche quando non è all'ordine del giorno. Perché probabilmente c'è una fissazione vera da parte di qualcuno. Io proporrei alla Presidente, lo farò anche nella prossima conferenza dei Presidenti, di istituire durante la sessione parlamentare una giornata sfogatoio per la Polonia. In modo che tutti i colleghi possano venire qui e parlare contro la Polonia. Perché questo è quello che sta accadendo anche nell'ambito di un dibattito come questo, sull'ordine del giorno del Consiglio europeo. Sul quale, Presidente, io ho colto degli aspetti molto importanti e positivi anche da quello che le ha detto. E vorrei provare a dare un contributo perché dovremmo parlare delle questioni vere che interessano i cittadini, non di una presunta democrazia imposta da Bruxelles e da questo Parlamento che cerca di spiegare ai cittadini dei Paesi che eleggono regalmente, tanto in Polonia, quanto in Ungheria, quanto in Slovenia, i loro governi, che questi governi non vanno bene al Parlamento europeo, alle forze politiche e opposizionali che mettono in campo questo meccanismo. E' paradossale la discussione che abbiamo di fronte a noi ed è offensiva anche per il rispetto dei valori democratici che questo Parlamento dovrebbe portare avanti. Detto questo, il Consiglio ha una serie di punti molto importanti. Io vorrei partire dall'esigenza fondamentale, quella della ripresa economica, che è un punto decisivo. La Presidente della Commissione ha fatto alcuni riferimenti molto importanti, che io vorrei cogliere, però anche indicando quelle che sono le nostre posizioni e alcune forti perplessità rispetto a delle scelte che vengono portate avanti, partendo dal tema della impennata dei prezzi del gas e dell'energia, un tema che sicuramente rappresenta un vero limite e che rischia di colpire duramente i nostri consumatori e le nostre imprese. Ecco, qui io mi ricollego al tema della transizione verde e colgo nelle sue parole, Presidente von der Leyen, dei punti fondamentali, ma che rappresentano anche rispetto alla impostazione della Commissione dei limiti. Lei ha parlato di un problema vero. Il problema vero è quello della tempistica delle autorizzazioni, delle scelte sull'energia rinnovabile. Ed è il tema che rende non credibile l'impostazione del Green Deal. Perché se noi abbiamo quella tempistica, 6-7 anni, per poter realizzare un intervento di energia rinnovabile, abbiamo la certezza che la programmazione messa in campo è una programmazione che non troverà una sua attuazione. E questo riguarda anche un altro aspetto al quale lei ha fatto riferimento molto importante, che è quello relativo all'approvvigionamento da terzi, sul quale serve un quadro chiaro per l'Europa, portando all'ordine del giorno di questo dibattito, di questo Parlamento, anche la questione del Nord Stream 2, insieme a tante altre questioni che riguardano l'approvvigionamento esterno di energia e gas, che sono decisive rispetto alla credibilità di questo impianto che noi portiamo avanti. Così come, voglio concentrarmi su un'altra questione importante, il tema dell'immigrazione. Le dichiarazioni sono condivisibili in via di principio, ma a marzo si è rinviato a giugno, a giugno si è rinviato a ottobre, a ottobre non so a quando si rinvierà. Il tema relativo alla questione dell'immigrazione. Abbiamo tre problemi, tre fronti diversi, sui quali l'Europa si approccia in modo sbagliato e differente. Il primo è quello del rapporto con la Turchia, dove Erdogan sembra dettare l'agenda anche con le sue dichiarazioni, perché mette all'incasso quello che è il suo atteggiamento e il suo comportamento per bloccare quel flusso migratorio. Un secondo flusso pericolosissimo, che è quello che viene utilizzato strumentalmente da Lukashenko rispetto all'azione che sta avvenendo in Afghanistan e al tentativo di mettere in campo una strumentalizzazione grave della gestione del flusso migratorio rispetto ai paesi dell'est europeo. E un terzo fronte, che è quello del Mediterraneo, dove cresce la presenza e l'importanza e la rilevanza politica della Russia e della Turchia, diminuisce quella dell'Europa e si sta prefigurando uno scenario nel quale utilizzare ancora una volta, con lo stesso meccanismo, il tema dell'immigrazione. Su questo noi ci aspettiamo delle risposte serie, insieme al tema della transizione digitale, che è un altro aspetto molto importante. Su questo noi incalzeremo il lavoro del Consiglio e svolgeremo la nostra azione in Parlamento, con la preghiera di parlare di questioni vere e di evitare che ci possa essere continuamente questa discussione che oramai è paradossale, strumentale e politica contro alcuni governi, esclusivamente con una finalità da campagna elettorale che dovremmo cercare di dismettere da questo Parlamento. Grazie. Grazie.